Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per mercoledì 24 aprile 2024. Campi anticiclonici ad evoluzione meridiana in Atlantico manterranno attivo sul loro lato orientale un flusso di aria fredda di diretta estrazione polare verso i settori centrali europei. Tale flusso è inserito in una vasta saccatura perturbata a recante diffuso maltempo con piogge, temporali e nevicate fino a quote molto basse per il periodo. Tale saccatura continuerà ad interessare direttamente anche il Mediterraneo, dove insisteranno una serie di minimi depressionari secondari tra Italia e Balcani. Configurazione di insieme dal sapore invernale. Previsioni meteo in area italiana per mercoledì 24 aprile 2024. Nord, irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti in area alpina ed orientale, dove vi saranno rovesci sparsi, nevosi oltre i 1000 metri e da quote collinari sui versanti esteri alpini. Tendenza nel corso della giornata ad ampie schierite sui settori più occidentali. Centro, una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda in quota determina condizioni marcatamente instabili con precipitazioni a tratti diffuse ed anche la possibilità di qualche temporale. Nevicate in area appenninica attorno a di 1100 metri. Lenta attenuazione della fenomenologia dal tardo pomeriggio. Sud e isole, nuvolosità irregolare con associati rovesci sparsi, più probabili in area tirrenica e sulla Sicilia. Dal pomeriggio ulteriore peggioramento sull'isola con ingresso di temporali, anche forti sulla parte meridionale. Nevicate sulle cime appenniniche. Parziale attenuazione delle precipitazioni in serata. Temperature massime in lieve aumento nelle zone interessate dalle schierite. Ancora molto basse ove piovoso. Minime nel complesso stazionarie. Valori ovunque diffusamente inferiori alle medie del periodo con isoterme in quota tipiche della media invernale. Ventilazione moderata tra ovest e nord-ovest con raffiche fino a forti al sud e sulle isole. Mari generalmente molto mossi, a tratti agitati in area tirrenica ed insulare con mareggiate sulle coste esposte. Tendenza in area italiana per giovedì 25 aprile 2024 e venerdì 26 aprile 2024. Giornata di giovedì all'insegna del tempo variabile con cieli parzialmente nuvolosi e spazio anche per delle schierite, intervallate da addensamenti a tratti compatti ed accompagnati da piovaschi sparsi. La fenomenologia risulterà più probabile nel pomeriggio, specie sui rilievi, al nord-est e lungo la fascia adriatica. Situazione del tutto simile venerdì, anche se l'instabilità si farà più diffusa con le precipitazioni che interesseranno buona parte delle zone interne e dei rilievi, in particolare al nord-ovest ed in area centrale. Possibili anche dei temporali, temperature che iniziano leggermente ad aumentare, pur mantenendosi sotto la media. Ventilazione in rotazione da sud venerdì. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.